Delle volte ci sono delle cose che non capisco, mi chiedono delle cose troppo complicate. Quando succede questo, io do il numero di Mattia Fantinati e gli dico guarda, parla con lui, perché lui per me è Mr. Wolf, risolve problemi. Mattia Fantinati! Non scherziamo, non scherziamo. Io mi presento, io sono ero, sono un ex imprenditore, un veneto, infatti per quello vi parlerò di piccole e medie imprese, ma lo voglio fare in un modo un po' particolare. Parleremo di miti e di leggende. Cos'è un mito? Un mito era una cosa che nell'antichità i governanti raccontavano alla gente, gli davano da bere alla gente, poi la gente lo tramandava e diventava realtà. Oggi parliamo sulle piccole e medie imprese di tre miti. Un mito è falso. Primo mito, le aziende delocalizzano, se ne vanno, perché la mano d'opera costa meno. Falso. E ve lo spiego subito. Guardate che le aziende, certo qualcuno se ne va via nei posti dove costa meno, ma lì c'è l'Istituto Commercio Estero, non il 5 Stelle, ha fatto un sondaggio, 30.000 aziende negli ultimi cinque anni se ne sono andate via, ma non certo dove la mano d'opera costava meno, se ne sono andate in Francia, in Germania, in Austria, in Svizzera, dove il costo del lavoro è addirittura più alto del nostro. Ma perché? Perché là c'è un governo che aiuta le imprese, le aiuta davvero, è più facile fare impresa, per quello se ne vanno là. A voi vi raccontano che vanno via perché la mano d'opera costa meno, così possono dire, beh non potete andare in ferie, non potete ammalarvi, oppure non potete, voi donne chiedete la maternità, dopodiché però vi contestano che in Italia non si fanno figli, quindi oltre al danno anche la beffa. Allora, ecco perché io ho un imprenditore che se ne va, con i soldi suoi, io posso dire ti prego rimani qui, ma non posso dirgli niente, ma attenzione che se un imprenditore prende soldi, prende fondi pubblici e poi se ne va, eh no signori, quelli non sono soldi suoi, sono soldi nostri, quelli li lasci giù, questi sono soldi dei cittadini. L'anno scorso è un anno, una grandissima vittoria nostra della Commissione di Attività Produttiva, il Movimento 5 Stelle, una legge, non una proposta, una legge, una concreta, una legge dello Stato, tre righe, se un'azienda se ne va e ha preso fondi pubblici, quei soldi li lascia giù. Questo è difendere il Made in Italy, questo è veramente difendere il Made in Italy. Diciamolo alla Fiat, che in 30 anni 7 miliardi ha preso e poi grazie e arrivederci. Secondo mito, secondo mito, aiutiamo, finanziamo il grande, così facciamo crescere il piccolo, il grande come grandi opere, grandi imprese, grandi infrastrutture, così cresce la piccola e le medie imprese all'indotto. Falso, falso, falso. Renzi va a toccare l'articolo 18 che interessa al 5% delle aziende nazionali. Perché va a toccare l'articolo 18 che interessa al 5% delle aziende nazionali? Perché non fa qualcosa per le altre 95% che sono le piccole e medie imprese? Perché le grandi aziende multinazionali, chiamate lobbies, sono quelle che di fatto tengono il potere. I grandi petrolieri, i grandi trasportatori, le grandi multinazionali, quelle governano davvero. Quando faremo un provvedimento per le altre, per le piccole e medie imprese, quelle che pagano le tasse, l'altro 95%? Quando faremo un decreto legge per i cittadini che lo stanno aspettando? Allora, grandi, grandi opere. La TAV costerà forse, ipotizzato, un costo di 8 miliardi. Lavoreranno 5.000 persone, tre grandi multinazionali, prenderanno i soldi e poi se ne andranno via. L'Enea, Ente Nazionale Energie Renovabili, ha detto ci date quei soldi a noi, riqualifichiamo il patrimonio energetico pubblico, facciamo lavorare 150.000 persone e oltre a risparmiare, a riqualificare, avere un patrimonio delizio migliore, quelle 150.000 persone lì sono ingegneri, architetti, piccole e medie imprese. È un lavoro qualificato, è il nostro lavoro, rimangono i soldi sul territorio. Questo è il creare posti di lavoro, non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo dice l'Enea. Allora così si creano, e guardate se parliamo di innovazione, le aziende che si occupano di riqualificazione energetica sono quelle che negli ultimi cinque anni hanno innovato di più. Allora ecco come si fa a fare la ricerca, così, creando dei mercati. Parliamo di infrastrutture, semplicissimo, copiamo. Noi parliamo sempre di banda larga, la banda larga è importante, non certo per scaricare i film più veloci, non certo per andare sul sito di Beppe in modo veloce. La Lettonia, che è tutta accablata, ha una fibra ottica velocissima. È il paese dove la burocrazia è ridotta all'osso, perché proprio si va con la banda larga. È il paese dove arrivano le grandi multinazionali ad investire, arriva Facebook, arriva Google. Ed è il paese con il maggior rapporto di start-up pro capite, cioè dove la gente investe, perché ci sono le infrastrutture. Allora se il Veneto, ma tutta l'Italia, è il primo paese per il turismo, per i siti del turismo, è il trentesimo paese in informatica, in ICT. Questo connubio potrebbe veramente far scoppiare, ma esplodere l'economia, ma in senso positivo, creando tantissimi posti di lavoro. Guardate che sul turismo lavorano uno su dieci, altro che gli 80 euro di Renzi per far ripartire l'economia. Questo serve. Terzo mito, solo i politici professionisti riusciranno a risolvere i problemi del paese. falso, falso. Io insieme ad altri colleghi ho scritto due leggi, sentendo gli imprenditori, sentendomi al tavolo con loro, ho scritto una legge sull'Ira, poi gli ho chiesto qual è la tassa più odiata? L'Ira, perché più un'azienda cerca di crescere più me la tassi, indipendentemente da quello che fa di utile. E io gli ho chiesto, benissimo, e voi imprenditori ditemi dove trovare i soldi, le coperture, me l'hanno detto loro. Una cosa semplicissima hanno detto. Basta finanziamenti a pioggia, che non servono a nullo, ma abbassateci le tasse, toglieteci l'Ira, e da un anno e mezzo quella legge lì è ferma. Perché? Perché tutti in campagna elettorale hanno detto aboliamo l'Ira, ma l'ha fatta la legge del Movimento 5 Stelle e loro dovrebbero votare una legge del Movimento 5 Stelle, non lo faranno mai. La seconda legge, la seconda legge dice voglio uno Stato giusto, uno Stato giusto, è uno Stato che se uno non paga le tasse, lo Stato deve riconoscere perché non paga le tasse, non posso non pagare le tasse perché vado in paradisi fiscali all'estero, ma posso pagare le tasse perché non ce la faccio, perché non ho i soldi, perché non riesco ad arrivare a fine mese, perché magari preferisco pagare i dipendenti piuttosto che lo Stato. Uno Stato deve riconoscere le due situazioni, non può criminalizzare entrambi, ma il nostro Stato è forte con i deboli e deboli con i forti. No signori, no. Io voglio uno Stato, voglio una certezza, le aziende non vogliono né lemosina né i favori, vogliono certezze. Ecco che l'Italia è il peggior pagatore d'Europa. Ancora 30 miliardi di debiti con le aziende non pagati. Noi abbiamo detto almeno un emendamento passato, una legge su cui c'è anche la mia firma, io sono orgogliosissimo, c'è anche la firma di tutta la mia commissione. Compensiamo, era quello che vi diceva Carlo, ho vanto dei crediti, mi devi dei debiti, si può compensare, lo faccio anche al ristorante perché non può fare uno Stato. Quanti imprenditori avremmo salvato così. Questo io chiedo, le aziende vogliono certezza. La politica si fa ascoltando chi lavora nel settore dalla sera alla mattina. Ecco che io starei qui a parlarvi per ore di questo. Io quando parlo di piccole e medie imprese parlerai per ore. Dopo magari mi troverete al bancone e ne parliamo insieme. Però vi voglio raccontare la mia esperienza personale. Io sono uno di quei cervelli, sono un ingegnere che si è andato via in Germania. Quindi capisco chi se ne va. Io lo capisco. Ho vissuto anch'io gli sentimenti di chi se ne è andato, degli imprenditori che sono andati via. Io sono anche tornato perché io voglio vedere questo paese. Io so che questo paese può tornare grande anche grazie al mio e al nostro contributo. Per quello io sono tornato. Noi deputati del Movimento 5 Stelle non molleremo mai, ma neanche voi dovete mollare mai, insieme con noi. E sono sicuro, sono sicuro che ci saranno altre vittorie, ci saranno anche altre sconfitte. Magari non vinceremo oggi, ma se la rotta è quella giusta, prima o poi ci arriveremo. A me piace, io sono tornato perché avevo letto una frase in Germania. A me piace essere paragonato ad una nave, che dico sempre, le navi sono sicure nell'aeroporto, ma non sono state costruite per rimanere lì. Ce l'ho 30 secondi? Io ho finito col mio intervento. Mi rimangono questi 30 secondi per dirvi cosa? Vabbè, noi deputati stiamo qui a Roma, veniamo qui sul palco, parliamo, ma voi, io sono commosso dal fatto di avere persone. Da me sono venuti amici a vivere questi tre giorni a casa mia. Voi vi siete venuti qua in un momento anche di crisi, senza lavoro, con dei sacchi a pelle. Siete fantastici. Ci criticate, ci condividete i video, continuate così. Io ringrazio tutti che ci seguono da casa, su streaming, chi è venuto qua, chi si è fatto i banchetti, che se li fa sotto la pioggia, sotto lo freddo. Io vi ringrazio. Allora, una cosa vi chiedo, al mio tre, siete grandissimi. Facciamo così, ditevi sei un grande. Voi dite al vostro vicino, non gli dite al mio tre, sei un grande. Uno, due, tre, sei un grande. E l'applauso ve lo facciamo noi. Ciao.